L'uso dei telefoni cellulari è potenzialmente cancerogeno per l'uomo, lo afferma un gruppo di una trentina di esperti di 14 paesi riuniti a Lione su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le prove, dicono, sono sufficientemente valide da giustificare una catalogazione a livello 2b di una scala fino a 5 dei prodotti potenzialmente cancerogeni per l'uomo. Alcuni anni fa mi sono dedicato a una ricerca che secondo me poi ha dato i suoi frutti, perché avevo notato come utilizzando i telefoni cellulari, tenendoli appunto vicino all'orecchio quando telefonavo sentivo un disturbo sempre maggiore, un fastidio e quindi da lì ho cominciato a vedere quale potevano essere le soluzioni a questo problema. Mi sono dato da fare, ho trovato alla fine una soluzione utilizzando un nostro apparecchio che è un acceleratore di particelle al plasma, di Josh si chiama, che già utilizziamo per produrre alcuni dispositivi medici nel settore oncologico, abbiamo notato che potevamo cercare di stabilizzare quegli elettroni, cioè far sì che questi elettroni non vibrassero così in maniera evidente durante una ricezione di chiamata, un'emissione di chiamata. Dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo che l'OIARC, l'Agenzia Internazionale per le ricerche sul cancro, ha confermato che l'emissione del telefonino e anche il problema comunque emesso, la radiazione emessa anche dai wireless e da altri fenomeni radiofrequenza possono portare il cancro, quindi sono possibilmente cancerogeni. Noi stiamo per creare una sinergia con una grossa azienda che produce telefonini per mettere all'interno questo prodotto che non è altro che un nanoprocessore, un nanoprocessore che va a stabilizzare l'onda e che naturalmente quindi va a ridurre dal 70 al 100% il rischio del danno biologico al DNA. Rischio che è stato accertato da un ente anche in Italia che è il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Perugia, che ha anche certificato questa cosa, cioè hanno fatto delle ricerche, hanno fatto delle prove comparate usando tutti i tipi di telefoni cellulari con telefonate a stand by 15 minuti, 30 minuti, un'ora e hanno notato che c'era in tutti questo danno biologico al DNA. Mettendo questo nostro prodotto all'interno, questo non avveniva, si riduceva di moltissimo. Una volta ottenuto questo risultato e abbiamo visto anche a livello termico c'era una riduzione del calore, quindi l'abbiamo diciamo lanciato sul mercato, è stata infatti fatta la pubblicazione scientifica successivamente ed è veramente partito molto bene negli Stati Uniti, pur essendo prodotto a Novara dove appunto opero con la mia azienda di produzione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!